Non far niente è il miglior metodo agricolo. Non coltivare, non togliere erbacce, non usare pesticidi né concimi artificiali. Masanobu Fukuoka ha per anni praticato l'agricoltura naturale, influenzando gran parte del mondo. Trovare di giorno in giorno la risposta alla domanda come posso trovare il tempo di riposarmi nel pomeriggio è il mio principio direttivo. Non cerco di riflettere su cosa devo fare, ma su come devo agire per ridurre al minimo i miei sforzi. Fukuoka nacque nel 1913 a Iyo, nella provincia di Eime. Studiò patologia botanica all'Università di Jifu. Dopo la laurea, lavorò alla dogana di Yokohama per il Dipartimento di Botanica dell'Istituto della Sanità. Fece numerose ricerche sulle patologie degli agrumi, ma il punto di svolta cruciale della sua vita arrivò al compimento dei suoi 25 anni, quando, ammalatosi di polmonite, si trovò quasi in fin di vita. Dopo l'incredibile guarigione, la consapevolezza di essersi trovato dinnanzi alla possibilità di dover lasciare questo mondo in giovane età, gli impose un cambiamento di prospettiva. Avevo 25 anni ed era primavera. Dopo quell'atroce malattia, divenne per me subito chiaro che intelligenza e sforzi umani sono sempre completamente inutili. Ciò che davvero volevo era vivere autenticamente, stare a contatto con la natura e praticare l'agricoltura. Lasciò la sua carriera, ritornò al suo paese ed iniziò a praticare l'agricoltura naturale. La scienza è inutile, incapace. Ed anzi, devo dire che spesso è proprio la scienza a dimostrare che i suoi risultati sono inutili. Anche le mie conoscenze sulla coltivazione del riso sono inutili. Le piante del riso crescono anche senza alcun intervento umano. Lo sforzo è un distanziarsi dalla natura. Le conoscenze umane sono quelle che creano le difficoltà nel fare. La sua maniera di coltivare il riso è il capovolgimento delle pratiche tradizionali. Non vengono trapiantate piantine di riso nella risaia, ma si semina invece direttamente sulla terra. Non si usano insetticidi né concimi, ma ci si limita a spargere paia sui campi, di modo che la terra si arricchisca e diminuiscano le erbacce. Un'altra pratica sorprendente è la semina del grano che precede la raccolta del riso in un medesimo campo. Bisogna seminare il grano quando sono ancora presenti sul terreno le piante del riso, cosicché quando queste saranno raccolte il grano sarà già maturo. In un particolare momento ci saranno sul terreno sia il riso che il grano, e così dopo la raccolta del riso non ci sarà più spazio per le erbacce. Le sue idee erano completamente opposte ad ogni senso comune, ma i suoi raccolti furono sorprendentemente abbondanti ed anche superiori per quantità di quelli delle aziende agricole convenzionali. Così col tempo ha tirato su di sé l'attenzione del mondo. Le moderne pratiche agricole sono imbevute di conoscenze tecniche. In tempi antichi gli uomini erano invece meno alienati dalla natura e ciò veniva beneficamente riflesso nelle loro fortunate pratiche agricole. Quando le nostre attuali conoscenze tecniche cominceranno a tremare e mostrare la loro futilità, non ci resterà che tornare al punto originario, all'agricoltura naturale. All'età di 62 anni, Fukuoka pubblicò il suo libro, in cui custodì le memorie delle sue esperienze. Una rivoluzione può avvenire grazie a questa paia esile e leggera, ma i più non ne comprendono il reale peso. Se solo la gente comprendesse che valore possiede questa paia, potrebbe avvenire una rivoluzione. Un filo di paia può avere la forza di cambiare società e nazioni. Il suo libro, La rivoluzione del filo di paia, venne tradotto in tante lingue e la fama di Fukuoka raggiunse i livelli mondiali. Tanti giovani provenienti da tanti paesi diversi andavano a trascorrere dei periodi nella dimora di Fukuoka per imparare come coltivare secondo natura e come riprendersi in mano le loro vite. I giovani d'oggi che decidono di impegnarsi nell'agricoltura sono spinti a far di se stessi dei moderni imprenditori agricoli. Anche i giovani che arrivano qui da me vengono dalle città. Lavorano con i computer, si muovevano in macchina e quando pensavano al loro futuro le loro prospettive non erano certo rosee. Essi sono di certo lontani dall'agricoltura ma sentono comunque una profonda delusione nei confronti della società in cui vivono e desiderano ardentemente scappare dalle città. La sua tecnica consiste nel creare delle palline d'argilla. Diversi semi vengono mischiati con terra ed argilla. Si aggiunge acqua e si impasta l'insieme. I semi utilizzati non sono solo quelli di ortive ma anche quelli di erbe mediche. Fukuoka sparge poi le palline per tutto il suo giardino. Con questo involucro permeabile i semi non possono essere attaccati dalla fame di uccelli e topi ma viene assicurato il passaggio delle acque piovane che attraversano l'argilla e penetrano dentro la pallina facendo germinare i semi e facendo crescere radici. Questo è il suo giardino sporciato dalle palline d'argilla. I semi decidono da soli qual è il posto migliore dove crescere senza che l'uomo gli suggerisca altre strategie. Questo è ciò che Fukuoka sostiene. Queste sono arance estive e questo è il ravanello cinese. non sono mai sicuro di sapere quali semi germoglieranno dalle palline ma sono certo che comunque avremo una crescita fortunata. Se scegliete di organizzare la semina per avere qui ravanelli e lì zucchine non avrete molta fortuna. il posto che voi avevate scelto non sarà probabilmente quello scelto dalla pianta. Se invece seminerete tanti diversi semi senza pensarci su troppo la natura vi offrirà delle lezioni. Le palline di argilla ebbero successo e risonanza mondiale soprattutto in Asia ed in Africa mostrarono molto interesse per il fenomeno. Fukuoka visitò quei paesi e mostrò le sue tecniche per promuoverne l'utilizzo per il rimboschimento e la produzione di alimenti. Per i suoi contributi Fukuoka ricevette il corrispettivo asiatico del premio Nobel. Adesso ho certo la mia età ho già lavorato 45 anni con l'agricoltura naturale e quello che ho fatto è stato solo mettere in pratica le mie ricerche. Sono andato anche in quei paesi per vedere se le mie scoperte avevano dei riscontri anche nelle zone desertiche. Fukuoka scappò via dal trambusto cittadino e cominciò a vivere in autosufficienza convinto che la protagonista della vita è la natura. Fukuoka lasciò questa vita all'età di 95 anni. La migliore tecnica è non far niente rinnegare le conoscenze umane e il materialismo. L'uomo non produce nulla è la natura che crea. L'uomo non produce neanche una piantina è la natura che le dà vita.